Avvocato Michaletti, come lei ben sa, Terramo Web è una tv che segue molto la diocesi di Terramo Atri. Io le voglio fare una domanda semplice a questo punto. Un sacerdote, un'omelia di un sacerdote dove legge le scritture, può essere denunciato? Ecco, questo è un caso che potrebbe sembrare paradossale, ma noi sappiamo che dove esistono norme contro l'omofobia scritte male, per cui non c'è solo il problema di accettare un determinato impianto ideologico, ma di tradurlo con norme scritte in maniera pessima, sono due, tra virgolette, i passaggi critici, è successo che sacerdoti sono stati arrestati, sono andati sotto processo, un ex ministro finlandese, se ricordo bene, è andato sotto processo per avere, è sotto processo attualmente, per avere ricordato che per lei il matrimonio è tra uomo e donna. Sappiamo ad esempio i casi di vinciaggio mediatico, che ne so, di J.K. Rowling, quella scrittrice di Harry Potter, che ha detto che per loro i trans, che per lei un trans maschio resta maschio, finché, tra l'altro dicevo, finché non fare la cosiddetta operazione, insomma tutta una serie di vicende processuali che ci sono, questo è un caso mediatico con i J.K. Rowling, però che ci sono, ci sono state e sono attualmente in corso, pensiamo al caso della pasticceria americana che c'è stato qualche tempo fa, che non voleva fare la torta di nozze a due omosessuali, ed è stato ordinato dal giudice di fare questa torta, che tra l'altro nella mentalità americana, il fatto di coartare l'iniziativa privata fino a questo punto, è molto peggio che da noi, già a noi sembra assurdo che se uno dice la torta non te la voglio fare, non te la faccio, ma addirittura lì per la mentalità americana è ancora più violenta come cosa, al di là di come uno giudico o non giudico di questo comportamento, sto parlando in termini giuridici, ma non solo, pensiamo ai casi che ne so, che ci sono molto, in America c'è per esempio la cosiddetta guerra dei bagni, fa ridere la guerra dei bagni, però sono sempre di più i casi in cui vengono denunciati da parte di genitori il fatto che nelle palestre, nei bagni delle scuole, delle ragazze, perché poi sempre questo succede, delle ragazze si introducono soggetti di sesso maschile che però si percepiscono trans, si percepiscono bisex, si percepiscono omosessuali, ragion per cui ragazzine di 12, 13, 15 anni si trovano ragazzi di altro sesso che si spogliano davanti a loro perché si percepiscono questi ragazzi appartenenti a quell'altro specifico sesso, e ci sono state le risoluzioni più diverse, mi viene in mente il caso, se ricordo bene, di Target, una grossa catena di supermercati americana che aveva messo i bagni senza indicazione maschio o femmina e tornate indietro sulla base delle proteste di diversi clienti che sentivano in pericolo le proprie figlie o comunque le donne che si trovavano a entrare in certe circostanze. Mi viene ancora in mente tra i diversi altri casi potremmo pensare agli atleti transgender. Nell'atletica adesso è un problema, veramente un problema. Recentemente una ragazza americana di 16 anni, che era la campionessa mi pare dello stato del Connecticut, ha denunciato questo fatto che adesso concorrono con lei atleti maschi che si percepiscono donne e che ovviamente la stanno stracciando, tra l'altro questo è un caso nel caso perché questa ragazza ha scritto una lettera aperta a diversi quotidiani, che è stata pubblicata, dove la ragazza aveva scritto io sto perdendo tutti i miei titoli perché contro di me corrono atleti maschi. Tutti i giornali l'hanno censurata scrivendo contro di me corrono atleti trans. Ma lei aveva scritto maschi perché il punto del problema, il fulcro del problema è proprio quello. La struttura fisica è ovviamente, pensiamo ai casi della lotta libera in cui c'è un lottatore, adesso non ricordo quale, che essendo di sesso maschile ma è scritto la categoria donna ha già fraversato il cranio di tre concorrenti, cioè di tre avversarie. Ma nella palla a volo è successo pure, nel basket. Allora se io dicessi che questa cosa non mi sta bene, e mettiamo non fossi neanche un diretto interessato, un atleta, correrei il rischio rispetto al DDL ZAN di andare sotto processo? Io non lo escludo. Non lo escludo. La famosa norma dell'articolo 4, se io dicessi per me gli atleti maschi, che sono biologicamente maschi, non possono competere con gli atleti femmine. Questa è una discriminazione agli effetti del DDL ZAN. E l'articolo 4 non è che mi protegga, perché io sto dicendo sostanzialmente togliete gli atleti biologicamente maschi dalle competizioni con gli atleti femmine. Giusto? È una discriminazione. Ma è un riconoscimento della realtà, è la realtà che discrimina in questo caso. Eppure l'articolo 4 non mi direbbe perché io sto chiedendo una cosa che effettivamente provoca una separazione tra atleti trans e atleti femmine. Questo si potrebbero fare tantissimi altri esempi che già adesso stanno succedendo nel mondo. Ma tornando al sacerdote, torniamo un po' e stringiamo un po' il campo. Il sacerdote, che parla d'altronde della sua religione, che deve fare? Si chiama il Vangelo? Non più uomo o donna li creò. Punto. Non si può cambiare il Vangelo. Il sacerdote deve essere pronto a pagare le conseguenze ingiuste di una parola sommamente giusta, quale è quella di Dio. Deve prepararsi a pagare le conseguenze ingiuste. Del resto, come ha ricordato mi pare... Spieghiamolo bene, pagare conseguenze ingiuste. Ingiuste, perché finire sotto processo per aver detto che il matrimonio è trovato una donna, è un'ingiustizia. Cioè è innegabile che si unirà, quanto meno sul punto di vista morale. Se poi dovesse passare il DDL e ZAN, sarà una cosa legittima e doverosa finire sotto processo per queste cose, non sarà comunque a mio avviso una cosa giusta, né compatibile con la nostra Costituzione. Rischiamo di avere le chiese chiuse, perché non ci saranno più sacerdoti. Spero di no, spero che sia salvaguardata la possibilità di tutti di agire secondo coscienza. Questa è la libertà per una persona diretta a ragione, la possibilità di agire secondo coscienza. Ma le faccio una domanda così forse sciocca. Abbiamo sentito anche il fatto nelle carceri americane, è successo che alcuni uomini nel loro percorso si sono sentite donne e vogliono andare nella zona femminile di quel carcere. Dovesse succedere qualcosa, qualche violenza, è ancora violenza sessuale poi? Sono già successe, sono già successe. Sì, è ancora violenza sessuale e sono punite, sono sotto processo come violenze sessuali. Il problema è la situazione che l'ha determinata, perché poi il concetto di violenza è qualunque atto che viene subito senza il consenso. Ma in questo momento di solito è la violenza l'uomo verso la donna, lì non possiamo parlare di quello. Si ha un nuovo genere di violenza sessuale, chiaramente poi le conseguenze a noi ci fanno anche sorridere, ma l'impatto pratico è grave. Pensiamo a una ragazza, magari detenuta, quindi ha il suo percorso di vita già tormentato che l'ha portato a far quella, quella situazione che l'ha portata poi in carcere. Si trova come compagno dicella un maschio, che si percepisce donna e quello che ti pare, magari sarà tra virgolette totalmente disinteressato a lei, ma lei come la vive questa cosa? E il fatto che glielo dia male può essere solo per questo ritenuto omofobo? Il fatto che questa ragazza chieda al direttore del carcere per favore spostami in un'altra cella perché io non voglio stare con una persona biologicamente maschio, può essere ritenuto, come vi ha detto qualcuno, un atteggiamento bigotto e medievale? Il fatto che una ragazza di 15 anni in uno spogliato di educazione fisica e ginnastica abbia difficoltà a accettare il fatto che un compagno di classe maschio, che però si sente donna, si spogli e si lavi davanti a lei? Può essere ritenuto un atteggiamento bigotto e medievale? Si può superare tutto questo con una sorta di lavaggio del cervello indotto che impone l'articolo 7 e le altre norme del DDL-ZAN? Siamo sicuri che ce la facciamo creiamo o sommiamo disagio a disagio, cioè il disagio magari della persona con denezze mosessuali che si sente tra virgolette marginata, a questo disagio si aggiunge il disagio di una persona che ha un altro tipo di visione del mondo e che si sente sicuramente additata quando non addirittura penalmente perseguita. L'idea di fondo è sempre così, quando le norme sono fatte male non risolvono il problema e ne creano un altro. Funziona sempre così.